Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Domani cielo sereno poco nuvoloso su tutta la regione Marche Venerdì 28 con qualche nuvolosità soltanto sull'Anconetano e sulle basse Marche Mentre sabato ancora cielo sereno poco nuvoloso avremo venti di garbino ancora nei prossimi giorni con brevi precipitazioni fino all'inizio della settimana prossima Poi a metà settimana atteso un peggioramento qui però adesso ci limitiamo a sabato E queste sono le previsioni del tempo Allora andiamo a leggere i giornali Di questo si parla questa mattina ovviamente sui quotidiani, si parla di tutti i disagi, si parla di tutto ciò che accade attorno a questa emergenza sanitaria Anche se adesso e qui mi sposto un po' dalla regione e dalla provincia insomma a livello nazionale Si comincia a dire e lo dicono quelli che si intendono per così dire di queste cose Che forse è il caso di ridimensionare un po' la situazione Di ridimensionare un po' questo coronavirus che certamente va affrontato ma che tutto sommato alla fine insomma Non è quello che in molti pensano Uno pensa che coronavirus è uguale morte Non è proprio esattamente così Andiamo a leggere i giornali Cominciamo dal Corriere Adriatico Ceriscioli governo si va al TAR, il Tribunale Amministrativo Regionale Coronavirus oggi Roma deposita il ricorso urgente ad Ancona per avere la sospensiva I casi positivi sono tre Conferma per una coppia di anziani di Fano Giallo sul contagio Poi il resto del Carlino Ceriscioli Conte resta il fossato Il governatore non molla sulla chiusura delle scuole Roma rincara la dose E continuo a dire che l'ordinanza del governatore delle Marche è sbagliata Mentre a centropagina altro contagio Donna gravissima, virus Due nuovi casi positivi e una coppia di anziani Il giallo degli ottantenni di Fano Sono i primi due casi autotoni Positivi ai test Presentano i sintomi tipici Febbre e tosse Non si sono mai mossi dal territorio E spunta il caso di un 56enne di Pian di Meleto Compagno di caccia in Romania del Cattolichino Positiva coppia di anziani fanesi La donna è affetta da polmonite Potrebbero aver contratto il virus da un congiunto di Milano Che ha fatto loro la visita due settimane fa Sono in costante riprese invece le condizioni Del ragazzo contagiato di Vallefoglia Arrivato da Piacenza Io avvertito in ritardo La rabbia del 51enne contagiato Dall'amico ristoratore di Cattolica Parla l'operaio di Pian di Meleto Che andava a tartufi con l'anziano romagnolo Le autorità mi hanno detto Solo dopo due giorni Che il mio amico era positivo La febbre gli è arrivata a 39 gradi Io allora ho comprato delle mascherine Mentre sulla pagina Il primo piano di Pesaro Del Corriere Adriatico Il riassunto della giornata Schematizzato in questo grafico Che pubblica il Corriere Adriatico Abbiamo detto che ci sono tre casi positivi Al coronavirus nelle Marche Tutti nella provincia di Pesorubino A ridosso della Romagna Un ricovero nel reparto di malattie infettive Dell'ospedale regionale di Torrette Il 29enne di Vallefoglia Che lavora in Lombardia Ed era tornato a casa nel Pesarese Lo scorso fine settimana Altri due tamponi Poi sono risultati positivi Al test per il coronavirus Questa mattina saranno inviati a Roma Per la controverifica 1099 invece le telefonate Arrivate al numero verde del coronavirus Il numero verde è 893-66-77 Della regione Marche Mentre 65 sono i medici operativi A copertura appunto di questo numero Si parla anche dei turni giornalieri Quindi chi chiama questo numero verde Sa che dall'altra parte Ha tutti questi medici Che fanno turni di 6 ore Dalle 8 alle 20 Con 5 postazioni per ogni turno Quali sono le informazioni Più richieste al numero verde? Intanto chi chiama E' preoccupato per il rientro Di persone familiari Dalla Lombardia e dal Veneto Poi chiede notizie Sulla chiusura delle scuole E poi l'ultima Tra le più Delle domande Tra le più gettonate La necessità di isolamento domiciliare Per chi proviene Dalle zone a rischio Da Piacenza a Vallefoglia E' il paziente numero 1 L'ingegnere di 29 anni Lavora nella zona rossa Era tornato a casa Dai genitori Vive praticamente Tra Vallefoglia e Piacenza A 29 anni da compiere E' un ingegnere Lavora da poco più di un anno A Somalia 5 km da Codogno Che è l'epicentro Della zona rossa Ed è il caso numero 1 Di coronavirus Nelle Marche Ed è stato confermato Ieri mattina Anche dalle controanalisi Dell'Istituto Superiore di Sanità Il ragazzo Dopo una giornata Di auto isolamento In casa E' stato trasportato All'ospedale di Torrette Nel reparto di malattie infettive Con un'ambulanza Praticamente scortata Poco dopo la mezzanotte Di ieri I controlli invece Per quanto riguarda Vallefoglia I controlli a cavallo Del confine Ristoratore positivo Le chiamate Ai clienti Il ristoratore Della Valconca E' stato Appunto Dichiarato positivo Al coronavirus Ha innescato Una serie di reazioni A catena Con telefonate a non stop A cavallo tra Romagna e Marche Perché molti erano clienti Anche del pesarese Le autorità sanitarie Stanno ricostruendo I movimenti Del 71enne cattolichino Il primo contagio Dal covid-19 Nel territorio riminese Molti clienti Del ristorante Gestito dall'uomo Stanno contattando L'Ausl Romagna Attraverso i numeri dedicati Come hanno riferito Anche il prefetto In una riunione E nei prossimi giorni Le autorità potrebbero Disporre nuove misure Per contrastare La diffusione del virus In provincia Di Rimini E ancora Dai quotidiani Sul ricorso Deciderà Ancona Si passa Dalle corsie Dell'ospedale Alle corsie Dei tribunali Qui c'è la questione Che oggi Probabilmente Si chiarirà ancora di più La questione del ricorso Il governo Che impugna L'ordinanza Di Ceriscioli Deciderà Ancona Può essere esaminato Subito Questo ricorso Oggi Roma Deposita L'impugnativa Gli esperti Sono dubbiosi Però sulla sospensiva Poi si parla di turismo Il turismo Che non si vuole arrendere Lunedì c'è un vertice Sono state confermate Le fiere E certamente Quella del turismo È una botta Grossa Incredibile Per tutto il comparto L'Italia vive In parte di turismo La fede resiste Ma a porte chiuse Il rito delle ceneri Su Facebook A Fabriano Don Umberto Usa il cellulare Dall'altare Così arrivano A tutti i parrocchiani Celebrazione tecnologica Anche a Loreto La messa Alla Santa Casa In diretta su Youtube E anche Lo ricordiamo Sul nostro canale Di Fano TV Anche se poi ieri Ci sono stati Dei problemi tecnici Che ripeto Non dipendono da noi Ma evidentemente Dalla Dalla Regia Di Loreto Non so Forse di Roma Il delegato Pontificio dal Cina Affidiamoci alla Vergine Dice Mentre le campane Suonano ancora No Agli allarmismi Eccessivi La messa si ferma Siamo su Pesaro La messa si ferma La fede no Pregate a casa L'invito del vicario Don Stefano Brizzi Che spiega Il rito in televisione Vale quanto Quello dal vivo La carità Per i poveri Continua Niente funzioni Fino al 4 marzo Per non generare Confusione tra la gente Niente assembramenti Aiuti mirati Con Caritas E centro di ascolto Torno da Milano Devo mettermi in quarantena Anse, dubbi E voglia di chiarimenti Boom Di telefonata Il numero verde Attivato dalla Regione Con 65 medici Per 12 ore al giorno Fiacchini dice Cittadini impauriti Anche per scarsa informazione Ora Su questo Direi che Forse C'è chi dorme Ma insomma Per il resto Che ci sia scarsa informazione Anzi Forse ce n'è anche troppa Da questo punto di vista Bisognerebbe starsene Un po' più zitti Ed evitare Certe uscite A scuola Aule vuote E gli uffici Al lavoro Atmosfera Surreale Nelle classi Dopo lo stop Forzato Imposto dall'ordinanza Si igienizzano I locali Nelle segreterie Invece squillano I telefoni Per le gite Cancellate Siamo a ridosso Della primavera Dunque Le scuole In questi tempi Si organizzano Per le gite scolastiche Ma sappiamo benissimo Che sono state annullate Tutte quante Questa invece La pagina di peso Del resto del Carlino Baristi e tassisti La gente non si muove più Viaggio nella città Semichiusa Per virus Calo di incassi Stazione del treno Quasi deserta Prendere un caffè Non può essere Un rischio Certamente Non può essere Un rischio il caffè Ma è bene Per evitare il contagio È bene Evitare di stare Dove c'è gente Quindi socializzare La parte social Non va bene Perché è ad alta contagiosità Poi che si guarisce È una notizia vera È verissimo E quindi Questo è importante Su 100 persone Che prendono il coronavirus 90 guariscono da soli E il resto Ha qualche complicazione Pochissimi E già con problemi Invece muoiono Quindi insomma Ecco perché bisogna Ridimensionare Infermieri E quiz Invece Ansia da esame Ma non da batteri Quasi mille candidati Al concorso degli ospedali Riuniti Al Palace di Ancona Distribuite mascherine E guanti Fissate le distanze minime Sulle gradinate Queste sono le fotografie Una neomamma Si è presentata Con il bimbo Da allattare Due invece Le ragazze In dolce attesa Blocco quasi totale Resta l'unico dubbio Del calcio di serie D Solo Lascoli Giocherà regolarmente Domenica Pescara Fermi tutti gli altri Anche il ciclismo Si è adeguato E adesso si pensa Già al successivo Fine settimana Anche la pallavolo Si è fermata La Lube giocherà Mercoledì 4 marzo Ma in Belgio Per la Champions League Tutto fermo Anche il basket Di serie A La serie C È ferma Insomma Dall'eccellenza in giù È tutto fermo Compresi i campionati giovanili Si attende adesso Poi molte Probabilmente saranno Le partite che si giocheranno A porte chiusa La settimana prossima Virus Hotel sulle barricate Contro Ceriscioli Oliva Che è il presidente Dell'associazione Degli albergatori di Pesaro Dice la sua ordinanza Riferendosi a Ceriscioli Ha gettato nel fango Il traffico turistico Dell'intera regione La metà dei tour operator Ha avuto disdette Adolfo Ciuccoli Dice il quadro Si aggrava Se calcoli Legite annullate Oltre a vari congressi E alle fiere Poi c'è il caso discoteca Incertezza fino a ieri sera Poi la sentenza Devono restare chiuse Anche loro E mi pare Il minimo Altrimenti Non si capisce Il senso Dell'ordinanza Ho difeso la gente Ma Roma Non capisce Ceriscioli Non molla Sull'ordinanza Che il governo Intende impugnare Eppure il virus È arrivato sempre più vicino Alle nostre case Serve armonia Tra le istituzioni Ho inviato Un messaggio Gianluca Dice Matteo Ricci Che si intromette Io non ho mai pensato Di sospendere le udienze Avanti con buonsenso Il presidente del tribunale Spinosa Ha adottato Alcune misure Percauzionali Installate Dispenser Di disinfettante Personale dotato Di mascherine Di guanti Anconitani Caraibi Invece Isola di Tortola Vietata Vabbè Comunque Sapete che Anche gli italiani Adesso non se la passano Bene all'estero Vengono visti come degli untori E quindi Siamo un po' alla follia Chiusa la pagina Del coronavirus Apriamo adesso Le altre pagine Della nostra rassegna stampa Siamo a Urbino Dove Sgarbi Lo vedete Mentre entra In ritardo Nella sala del consiglio Eccolo qua Nella sala del consiglio Mentre qui a destra I rappresentanti Dell'opposizione Che a un certo punto Si sono guardati in faccia E hanno detto Ma che ha detto Come dire Perché ha fatto un discorso Ma che è un po' contorto Non si è capito Lui voleva L'unanimità Dei voti Ma Dovete votarmi L'elezione a prosindaco Con i soliti voti Della maggioranza Le liste di Londè Si sono infatti astenute Gli altri Non l'hanno votato Lui chiede Che tutti Che tutti Votino in qualche modo Questa Questa figura Di prosindaco Poi ha fatto un discorso Però Non hanno capito Lo hanno riportato Anche qui nel giornale E dicono È un po' contorto E vabbè Urbino La pagina del resto del carnino Canavaccio Altri disagi in arrivo Lavori alla rotatoria Dalla prossima settimana Verrà chiuso l'accesso Alla zona industriale Traffico Che verrà dirottato Nella frazione E poi Dalla Dalla pagina di Fano Invece la cronaca Un inseguimento Nella notte Tre persone sono finite In manette Operazione anticrimine Della polizia di stato Catturata una banda Sospettata di razzie Nelle abitazioni Si tratta di moldavi Pendolari Accusati di resistenza Pubblico ufficiale Domani ci sarà L'udienza di convalida Poi urla E lesioni Alla giovane convivente C'è anche l'accusa Di violenza sessuale Confermato l'arresto Del 25enne Che ora Non può avvicinarsi Alla fidanzata Parliamo Dell'arresto Di un italiano Di 25 anni Residente a Tavernelle Di Colli Al Metauro Secondo l'accusa Questo giovane In un vistoso Stato di alterazione Psicofisica Dovuto all'accesso Di alcol Ha iniziato a invenire Contro la convivente Una sua coetanea E un litigio Che poi è degenerato Tanto che i vigili di casa Hanno chiamato Le forze Dell'ordine Proteste invece In centro storico Sempre a Fano Residenti contrariati Dal costo Dei permessi E poi c'è sempre E comunque Il problema Relativo Ai parcheggi A giudizio Siamo sul Carlino La coppia d'oro Dei centri estetici Siamo su Fano Sono accusati Di aver fatto Sparire Due milioni di euro Dalle casse Della loro Società Proprietaria Di vari centri estetici Tra Pesaro Fano e Calcinelli L'Ateneo SRL A marzo scorso La procura Di Pesaro Aveva chiesto Di mandarli a processo Ieri mattina Il GUP Ha colto La richiesta E ha inviato Rinviato a giudizio Per bancarotta Fraudolenta I coniugi Fanesi Mirco Tonelli E Michela Micheli Amministratori Della società Dichiarata fallita Dal tribunale di Pesaro Nel 2012 La curatela Si è costituita A parte civile Presentando un conto Pari al buco Provocato Alle casse Della società E poi ricorda Il giornale Di quando Nei tempi D'oro Di questi centri Estetici All'inaugurazione Scrive il Carlino Ci fu Arrivarono Anche Fabrizio Corona E Raffaella Fico Ascensore nuovo Ma già fuori uso Sempre dalla pagina Di fano Del Carlino Succede a San Lazzaro Dove l'impianto Dovrebbe servire Anziani e disabili A raggiungere Gli ambulatori Dell'Asur È un ascensore nuovo Che però Non è mai entrato In funzione Per ragioni Burocratiche Per quanto riguarda Invece Il coronavirus Dall'Avis A Cianfrusaglia Tutto cancellato Fano si ferma Fino al 5 di marzo Dopo l'ordinanza Firmata da Ceriscioli Salta Cianfrusaglia Con gli spettacoli Del guitto Al Politeama Che recupera Però il 9 Il 10 di marzo Domani Niente presentazione Del libro Sull'Alzheimer In fondazione Mentre l'Avis Ha annullato L'Assemblea Dei Soci Di sabato E quel giorno Salta anche La Scuola Della Pace Persino il CSI Annulla tutti Gli appuntamenti Sportivi E poi ci mettiamo Anche la collina Del Rosario Stasera Dove per la prima volta Non ci sarà Appunto il Rosario Comunitario In collina Proprio perché ormai Possiamo dire Che il coronavirus È arrivato Sotto casa Quindi anche a Fano Di conseguenza Evitiamo Fiamme sulla statale Devastata una casa Gimarra Sei le persone Intossicate Tutta colpa Di una stufetta Un edificio Decchiarato inagibile Nel capoluogo Invece va a fuoco Una cucina In via Fontana Questa fotografia Si riferisce Ad una Ad un incendio Che si è sviluppato Ieri intorno Alle 21 e 15 In un'abitazione Che si trova Proprio vedete Vicino alla statale Adriatica Siamo nel quartiere Di Gimarra A un certo punto Questa in questa Abitazione Una stufetta Difettosa Ha fatto Partire delle scintille E che poi Hanno dato fuoco Origine ad un incendio C'erano anche All'interno Delle persone Tutte di nazionalità Senegalese E che hanno dovuto Far ricorso Alle cure Dei medici Per un principio Di intossicazione Furti Scacco la banda Presi dopo l'inseguimento Ancora da Fano Era un gruppo Era un gruppo di moldavi In trasferta Per saccheggiare Case e ditte Roccambolesca Fuga a bordo Di due auto Di auto diverse La polizia Ne arresta Tre Sono tre moldavi Tutti sui Trent'anni Con precedenti Per reati Contro il patrimonio Che avevano tentato Un furto In un'abitazione A Fano Dopo averne messi A segno due In altrettante ditte Del circondario L'omicidio Di San Lorenzo In campo I periti Sono d'accordo Grilli è morto Per soffocamento Malgrado Il cuore del pensionato Non fosse del tutto sano Non è stato Un infarto A causare il decesso Ma un cuscino A lungo Premuto Sul naso E sulla bocca Di questo anziano Si parla ancora Di carnevale E dei problemi Che ci sono All'interno Della carnevalesca Ma in particolare Del Dei Maestri Carristi E qui Giox Così viene chiamato Giovanni Sorcinelli Che vedete In questa fotografia Cacciato dal cantiere Del carnevale Giammarioli Leliti Con i maestri Carristi Di fida All'autore Delle allegorie Già alla vigilia Dell'edizione Del 2019 Imposto a Fantagruel Il cambio Di presidenza Indisponibile Al progetto Scuola-lavoro Ma per lui Non c'era sicurezza Nel capannone La Presidente Aveva già rotto I rapporti Con i pacassoni Dopo la vittoria Su Cecchini Manca il salto Di qualità La carenza Degli spazi L'edizione 2020 Ha segnato Questa edizione Del carnevale 2020 Ha segnato Potenzialità E limiti Mentre L'unica nota Positiva Certamente È la notte Dei colori Vale a dire Questo carnevale Notturna Che andrà Sicuramente Migliorato E sviluppato Caffè del corso Andiamo invece A Fossombrone Il caffè del corso Che come sapete In polemica È stato messo In vendita Dai proprietari I dubbi Del sindaco Su questo annuncio Bonci Rivela il danno Autoprodotto Dal ristorante E la riapertura Attesa Dai dipendenti Dunque Il sindaco Di Fossombrone Bonci Nella lettera aperta Inviata Davide Renzi Lo chef Che ha chiuso Il caffè del corso Scrive Che a me Per primo Dice Bonci Dispiace Quando un'attività Chiude O se ne va Dal nostro comune Il problema Riguarda non solo La nostra città Ma l'intera nazione Con le attività Più piccole Inghiottite Dei grandi centri Commerciali A loro volta Messi oggi In difficoltà Dal boom Delle vendite Online All'operatore Segnalato Il fatto che Oltre ai piani Non realizzati Dal comune C'è il taglio Della Della tar E poi sotto Sempre da Fossombrone Tartufo E cultura Menù servito Per tre weekend Presentata la mostra Mercato del bianchetto Dal 7 Al 22 Di marzo In aula Photoshock Dell'autopsia Grilli è morto Per una sfisia I consulenti Della procura In corte d'assise Esclusa La causa Dunque Dell'infarto Attraverso le celle Telefoniche Due imputati Collocati In casa E due Invece All'esterno Erbe infestanti E guano Alla casa Della salute A Mondolfo Lucchetti Segnala lo stato Di abbandono Del cortile E un problema Anche sanitario Dove c'è Chiaramente Il guano Dei piccioni Mentre E con questo Chiudiamo la nostra Rassegna stampa I cento anni Di Ersilia Guidi Che scherza Con il sindaco Di Urbania Ersilia Guidi Che compie un secolo Dice Ha vissuto Tempi In cui si moriva Di influenze Di polmonite Guerre E bombe Lei dice Io non voglio Le mascherine Epidemie E malattie Una volta Era davvero Pericoloso Uscire di casa Ha snocciolato Perle di saggezza Questa donna Centenaria Urbana Urbagna E insomma Questo La dice lunga Insomma Anche su Come invece Stiamo trattando Le cose Cento anni dopo Oggi In questa situazione E allora Noi ci fermiamo qua Grazie per averci Sì Vi chiedo come sempre Vi auguro Una buona giornata Noi ci vediamo Stasera alle 20 e 30 Con il telegiornale Occhio alla notizia E per tutti gli aggiornamenti Vi ricordo che c'è Il nostro sito internet Occhio alla notizia Punto it Arrivederci Grazie a tutti